Buongiorno a tutti, sono veramente felice di fare questo video, finalmente dopo quasi quattro anni, il 6 aprile del 2022 abbiamo ricevuto l'ovvia sentenza della soluzione con formula piena per i fatti che mi riguardano nel 2018, dove ero stato accusato di traffico di cani dell'est per quattro cuccioli che avevo regolarmente acquistato con passaporto da uno degli allevatori più importanti al mondo. Io sono stato buttato sulle pagine di tutti i giornali, i social non hanno parlato d'altro, sono stato ripostato da titoli importanti come Fanpage, Repubblica, La Nazione, delle quali vi farò una carrellata tra poco, addirittura il club del quale ero vicepresidente ha fatto menzione di questo e io mi dimisi per non rischiare di influire negativamente sul buon andamento sociale del club. Ad oggi cosa posso dire? Posso dire che mi sento un po' sicuramente come si sentiva Pino Maniaci quando è stato accusato di associazione mafiosa, insomma. Io, allevatore italiano da 23 anni e da 23 anni ho sempre combattuto contro questo genere di traffici, collaborando con le forze dell'ordine, con gli enti locali, in tutte le cariche che ho rivestito nella mia carriera cinofila, da consigliere del gruppo cinofile ferentino, anche più da controllore dell'ENCI. Ho sempre combattuto questo genere di traffici, sia per il benessere dei cuccioli, anche per salvaguardare la mia categoria, quello dell'allevatore, dove noi ci troviamo spesso davanti a una concorrenza del tutto sleale, a discapito dei cuccioli. Ora vi farò leggere qualche articolo a riguardo. Eccoci qua, qui abbiamo I camion degli animali di lusso, Ungheria, Firenze e Solandata, di Paolo Guidotti. La tratta dei cuccioli, Maxi Blitz, sequestrati 226 cani, colpe di grid all'est Europa, giro d'affari milionario, e chi più ne ha più ne metta. La tratta dei cuccioli, stop al traffico illegale di cuccioli, sequestrati 226 esemplari di razza. Perché praticamente, diciamo, dalle ipotesi, perché io avevo acquistato quattro cani con passaporto, tutti gli esemplari presenti nel mio allevamento dovevano, si vede, venire da chissà dove. Qui abbiamo una trascrizione degli articoli, qui abbiamo un fucile che era stato rinvenuto, che non mi apparteneva minimamente, insomma, che era stato rinvenuto in una baracca, diciamo, nel prossimità del mio allevamento, del quale io ne ero dettuto estraneo, come da processo di quattro anni. Qui abbiamo riportato il club italiano del Bigole e Bigolarrier. I gravi fatti di cronaca riportati su diversi giornali e tv nazionali circa il traffico illegale di cuccioli provenienti dall'Ungheria portano il nostro club a prendere le distanze da allevatori irrispettosi delle regole. Allora il presidente era il signor Todaro. Insomma, io ero vicepresidente, insomma, è stato fatto questo post su Facebook, insomma, un po' per ironizziamo solidarietà nei miei confronti. Quindi riportato anche sul sito del club, dove qui è poi gente che ha mandato, insomma, varie note per cercare, insomma, di buttarmi più fango possibile addosso qualora non gli sembrava che ce ne fosse di sufficiente. Bene, quindi io dopo 23 anni di duro lavoro mi sono trovato con tutto questo fango gettato addosso, insomma, con la felicità di chi lo getta pensando di fare lo scoop di Natale. Mi sono trovato, diciamo, con tutti questi articoli infamanti e diffamanti nei miei confronti. Dopo quasi quattro anni siamo arrivati alla soluzione con formula piena, però, insomma, i danni morali e anche materiali nessuno potrà mai risarcirmeli. Quindi considerate che allora mia moglie era incinta a causa del grosso stress che ci ha portato tutto questo, perché immaginatevi le migliaia di persone che ci insultavano da ogni dove. Mia moglie ha avuto una gestazione molto sofferta, il grave stress gestazionale ha portato ad avere problemi cardiaci. mia figlia è stata ricoverata dal momento della nascita al NOA, nel centro cardiologico, dove mia moglie poteva vederla soltanto per allattare e io non potevo essere insieme a loro perché ero impegnato, insomma, a gestire l'allevamento e ormai ero da solo, insomma, perché buttato, diciamo, impasto ai media come un pezzo di carne da macello, come, diciamo, il festone da sventolare a carnevale per, diciamo, tirare uno scoop che non c'era, perché si parlava di quattro cani con passaporto in deroga che semplicemente dovevano essere registrati presso l'anagrafe di Firenze, insomma. Quindi, ad oggi, dopo questi tre anni e mezzo, mi ritrovo felice della sentenza che non poteva essere altrimenti, perché il processo è stato tutto molto chiaro e molto lineare. Non mi aspetto neanche delle scuse da questi signori, però voglio soltanto farvi riflettere. Quello che leggete sui giornali, chi lo scrive e con quale intento, spesso non viene utilizzato il criterio di voler mettere alla luce una verità mettendo in evidenza delle prove certe. Vengono fatti articoli soltanto per attirare l'attenzione, schermandosi con un presunto scritto sotto un titolo colossale come il camion di cuccioli di lusso o Ungheria-Firenze e sotto forse un presunto scritto piccolino da qualche parte per schermarsi da un'eventuale denuncia per diffamazione. Quindi dubitate sempre quando leggete degli articoli di giornale, aspettate le sentenze e cercate un attimino di prendere coscienza, prendere contatto con le persone che sono coinvolte in questo per rendervi conto delle realtà. Io da questa grande delusione, da questa grande sofferenza, ho seminato dentro di me una grandissima voglia di riscatto, di voler schiacciare con i fatti quello che erano le chiacchiere, quello che erano queste calunnie, il mio allevamento in questi tre anni e mezzo, nonostante tutte le difficoltà, è comunque andato alla grande. Migliaia sono state le persone che si sono rivolte a noi, però spesso, troppo spesso, mi sono dovuto giustificare di questi articoli, dover spiegare con le persone che dubitavano di noi, e tanti, dico tanti, hanno preferito andare altrove, perché comunque questi articoli gli avevano tolto la fiducia che loro avrebbero riposto in noi. Quindi, ripeto, io mi sento un po' come Pino Maniaci, una persona che ha sempre combattuto contro la mafia e si è trovata a dover affrontare un processo dove era incriminato per questo. Ecco, io ho combattuto sempre contro il traffico dei cuccioli e ho dovuto superare un processo che mi vedeva indagato. Come trafficante è stato estremamente umiliante, finalmente, diciamo, ho potuto definitivamente lavarmi questo fango che mi è stato recettato addosso ignobilmente, però, senz'altro, le ferite di tutto questo me le porterò dietro tutta la vita. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.